Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale Buona visione C'è il mitico Bella raga, siamo tornati qua a Azzurropoli, veramente calichissimi dopo la scorsa Azzurropoli Ho detto Azzurropoli Vi ve ne va, vi ve ne va Dai raga io posso fare una serie con una persona del genere Rifacciamo ovviamente, non è possibile tenere una merdata Stavo guardando Allora, adesso ti spiego la dinamica Io questa la tengo come extra all'inizio Salve a tutti ragazzi Benvenuti in questo No, non la rifacciamo, non la rifacciamo Non si rifà ragazzi Allora, benvenuti in questo Il sedicesimo episodio della Southing Che cosa facciamo oggi? Dopo vi ti spiego perché rido Esatto, raga, siamo arrivati qua a Non alla giù Come ho detto prima fuori parte Che eravamo dovuto rifare l'episodio No, l'inizio dell'episodio Pensavo di essere accanto ragazzi Mi sono sbagliato, che vi devo dire Siamo qua a Porto A Gheppoli Attenzione E quest'oggi andiamo avanti Verso i rifugi del team malvagio Perché a Gheppoli Toccherà il team magma Mentre a me i cari team idri Quindi ho occhio che Tra l'altro, oddio, era diverso il rifugio magma Cioè, sono diversi i rifugi in... Sperta E' come un fango pesce E' proprio bello, raga, bellissimo Vabbè, a parte sta stronzata Questo episodio è già partito nel trash Ragazzi, ho una pietra lunare Ho un chili puff Vai Gio, compri il destino Prima di iniziare l'episodio Cosa? KD ci si sta evolvendo Si diventa Anthony di Francesco Bestemmio Cosa diventa Gio? Cosa diventa? Luke, se te lo dico impallidisci Cosa diventa? Wigituff Spoink Eh, boh, dai Almeno si evolve Mettiamola così Tutto sommato Tipo normale fuoco No! No! Non ci credo Non ci credo Ti ricordi la creepypasta che se jump Si Fissa il corpo a terra, abilità Oddio No Ti ho detto Dopo l'articare ti tipo spettro C'è pure E' incredibile Adesso che fa delle magie Oddio No, è impietantissimo Fantastico, raga E' assurdo Cioè, addirittura Praticamente è morto Perché non posso attellare Un po' da battere il cuore E' un po' che mangià morto, raga In cui è tantissimo Si cambia coppia E poi E pure sul tuo canale Oltretutto, quindi Madò No, ma sti riferimenti qua, raga Tutti sul mio canale E' assurdo Sì, perché anche mi pare l'articare Sì, anche l'articare è sul tuo canale Sì, 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 ma E' vero E adesso, paradossalmente Luke con Spoink Vado a fare volo per andare a selcevoli Intanto qua c'è tipo Ho compassione per tre Così, proprio la bellissima voce Il grande doppiaggio, ragazzi Ok, io sono Luke dal tipo Io ho già parlato con Ivan Team Hydro No, non è la voce così Però vabbè Sei così veloce, scusami Ma cos'è sta pazzia, raga? No, perché tu hai fatto evolvere il Pokemon Ah, già, è vero Tra l'altro, ragazzi Anche Luke deve fare evolvere il suo Gabibo Ragazzi, io vi avverto Io vi avverto già prima Perché a me non potete abbassare il volume Potete avvisare i parenti Che non vi è successo Nessun attentato terroristico Se divento una Ciofeca Io veramente Sbalzo in aria Il joystick Luke, adesso voglio che tu mi definisca La parola Ciofeca Pokemon Che fa schifo Cioè Quanto così Semplice e lineare No, veramente Io sono ancora scosso da Spoink Cioè Sono ancora indignato Madonna No, veramente È allucinante sta cosa Se ci pensi Anche quando è venuto fuori Diglett Che volava, raga Cioè Diglett di volante Finta Mi farà finta Attenzione Proprio lui Attenzione Incredibile Nel frattempo, raga A mio uomo mi faccio Un po' di switch Con K-Licciu Per cercare di Insomma Cambiare la situa Pensa Luke Oh, vuole imparare beccata Adesso Pensa se tipo Mi dovesse diventare merda No, no Non ci abbiamo mai pensato A un Pokémon Che si evolve in lui Eh, non ci ho mai pensato Ma penso se succede Cioè, veramente Se viene fuori una roba del genere Tipo esplode il video Io comincio a urlare Il Meteor si rifiuta Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda sto palco Che deve morire malissimo No, ma proprio malissimo Non si fa buttare giù Era l'infame, eh Chi? Chi è che è? Vai Pinco No, no I teletrasporti Beh, lo so Lo so Gio Gio Eh, si si evolve Gabibbo Attenzione Attenzione ragazzi Perché Questo è un momento Clou Vediamo 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 No No Cos'è? No Basta Cos'è? Basta Cos'è? Non ci potete credere chi è Non è Non è No, Nidorino No Nidorina È Caterpie Oddio No, un'altra catena evolutiva E quindi è Nidorino No, non è Nidorino Gio È Octillery Oddio che ritorno E raga Tornerà Octillery fra poco Perché Di nuovo Caterpie Cioè, attenzione Caterpie è il 40 La pace Caterpie è il 40 Aspetta Addirittura No, Gio Conventose Ma come conventose? Oh, ma stiamo scherzando Fissa il colpo a terra Cioè raga Poi capite perché Io e Luke Amiamo sta serie, no? Cioè Una coppia con la stessa vita Sta venendo fuori Delle cose assurde In Decentro In Decentro Cioè, totalmente Madonna Cioè Adesso diventare di un Octillery Quindi perderà la vita ventosa Luke Eh Buona fortuna per l'editing Stavolta tocca a te Che hai perso Scusa Nessuno Spero Eh no Le evoluzioni Giò Allora Se io trovo un po' Che un contrappo arena Adesso Io veramente No, a parte che Katka è 40 Quindi in Toglia Dove preggere almeno un pochino Sì, tecnicamente sì Il mio Spoin che è riuscito a seccarne uno Ok, si sta per evolvere Dopo aver scioltato sto Farfetch Vogliamo Farfetch Vogliamo Farfetch Se si evolve in Farfetch Mi metto Mi metto Se si evolve in Farfetch Io lo dico Non lo so B Mi tingo i capelli di biondo Perché visto che va di moda Stavo forse midri Non lo stavo capendo Se si evolve in Farfetch Mi tingo i capelli di biondo Dal prossimo episodio Cavolo Ho fatto una stronzata Se viene fuori Ho fatto una stronzata No, ma figo Non penso Cioè, meno che non Dai Merrill No, basta Gio Gio A parte che tu dicevi che Buona fortuna per editing Altro video è tuo Quindi cosa Cazzo è vero Gio Buona fortuna per editing Mi raccomando Il video è tuo Il video è tuo Figlio di troia Che figlio Grande Gio C'è questa cosa Che non mi fa andare via Grazie Grazie mille Allora Io sto Io sta parte qua Dei teletrasporti Gio che non me la ricordo No, non doveva essere È facile Sto parte dei teletrasporti Allora Di qua Di qua Di qua Forse c'è fatta Dove faccio la fatta Oh Ah Dove sono Oddio Cazzo trovo il baltoio Bellosso mio Baltoio L'ho shuttato Ok Quindi faccio che fare fuga E poi zigzag Un gran po' Mi piace Non c'era master Purtroppo raga Niente Aspetta però Questa strada qua È quella giusta Alla fine Quale Quella dei teletrasporti Quelli a sequenza di tre Eh o era solo per quelli No no È solamente per quella stanza Delle Ok perfetto Dai cristo Però perché devo editare Pure la madonna Oddio Ho fatto autodistruzione C'è umidità Aspetta che mi sta Spendendo il televisore Devo premere un tasto Perdonatemi Il fuori onda No Che cazzo dico fuori onda Su Su Mi piace Raga perché devo avere Sempre questi episodi Cancro Scusate Tutti a te Poi tutto Capito Il problema è quello C'è Tutti a te Cazzo Ok Tatti io dovevo essere Cosa è arrivato Dalla comanda Eh io non riesco a valutare Perché non ho idea Di dove io sia Non me lo ricordo No è facile Oh cristo Regi still Mi ricorda qualcuno Raga tipo un maschere Inco nel box Per dirne uno No me lo ricorda Il tuo starter Invece Anche Ovviamente Oddio Non mi ricordo il tipo Sì me lo so ricordato È morto antipasto Come è morto antipasto Me l'hai shottato Quindi è morto Wobbuffet Sì No già dai Ma perché Eh non è che lo decido Non è forte Guarda che mi condito Mi scongerà pure Con Eh vabbè No mi ha scongerato Subito Vabbè raga Questo video Uscirà circa nel 2020 Perché per editarlo Ci ci vuole un po' Buona fortuna Ok Quindi Sì perché adesso Arriverà anche Tutti da lì Fra poco Quindi Io sto per sclerare male Madre raga Raga veramente Io tra l'attimo Prendo e chiudo la serie Mi fa malissimo Anche Swampert Rio Ancora Homastar E ho toccato abbastanza Homastar Mi dicono Un strumento Coccio verde L'utilità fatta a strumento Mi dicono Oddio chi sei? Perché uno Oddio ma è storto Sto rifugio È diverso No È uguale a Smeraldo No Il mio è diverso Non penso Già Penso siamo tutti uguali Cioè No Mi sbaglio io Ma non lo so Non lo so Qua c'è la sfida contro Come si chiama già il tenente Come si chiama il tenente idro Qua Da te c'è Da te c'è tipo Ottavio Mi pare che si chiami Ottavio E me sono rimasto Sono rimasto tipo indietro Mi son perso Luca aspetta No Io sono abbastanza Cioè mi ricordo abbastanza Questo rifugio Io mi son perso Sei già qui? Ti ho stato valutato Facciamola finita Sono una spalla di sopra Delle tue No il mio è tutto storto Rispetto a Smeraldo Luke è diverso Totalmente Già manca il mio Ah posso Allora Si chiama Jacqueline Ballerina I grandi comandanti Ragazzi Io però Già non mi fido A mandare in campo Caterpie Direi ma non mi fiderei Neanche a A dargli le chiavi di casa Io a Caterpie Dovresti fidarti Cavolo Dovresti Perché mi paralizzano O mi addormentano O mi paralizzano Mi congelano No Dai basta È morto Ursaring Cavolo No come Ursaring Aspetta Mi ha fatto breccio Un cloistro su Aspetta Con chi è legato? Eh con Saramans No 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 Raga indecente Stasera sta prendendo La brutta piega Serenamente Stiamo aprendo Troppi pokemon Vabbè mi si evolve Vabbè mi si evolve Capalicius Quindi ciao vita sociale Per questo video Porca da madonna Stavolta devo censurarla pure Clefable Vabbè dai E finirà Però Almeno è definitivo Gio Sì ma che cancro Ma dai va bene così Don't worry Don't worry Gio Te lo faremo Arrivare Censurare I miei due colleghi Ma per te ricordati di censurarlo Ricordati di censurarlo almeno E tanto fa voglia Per editare sto coso Figurati se non mi ricordo Di censurare Va Quindi Quindi Gio Abbiamo perso altre due coppie Quindi siamo Dio Sennò con quattro Io che cazzo metto in squadra Pempi No 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 ragazzi Io proprio vorrei Di mettere i giochi In pokemon morti Vadoci sapere nei commenti Se vi va bene Questa nuova Features Della serie La mortalock La Oddio Cioè allora Abbiamo perso Gramarro Però Ursaring E salamance Dai cazzo Ma salamense Era forte Cosa cazzo hai detto Non lo voglio salamere Ho perso anche Swampert Ragazzi abbiamo perso Dieci pokemon In 16 parti Fantastico Ma va Che cazzo dici Ne abbiamo persi Dieci Dieci No Più di dieci Scusami Dieci No Beh contando anche Lotad Ma vabbè Che se ne frega di Lotad Cioè No aspetta Allora Sono dieci Sono dieci E' più E' più quelli che sono schiatati adesso 13 Siamo 13 Con Lotad Con Lotad Quindi 13 con Lotad Beh andiamo bene Quindi vabbè Io quello l'ho liberato Io c'ho un fottuto Gabibu Il team addirittura Che tipo Aspetta Che livello è 40 Ed è un Caterpie Ed è un Caterpie Per dirti come Per dirti come cavolo sono messo Ragazzi Ma Luca adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare verso Verde Azzupoli Ah già? Serio? Ma sei uscito? Sì Ah vabbè Allora possiamo fare le catture Visto che siamo solo a 12 minuti A meno facciamo ancora due catture Secondo me riusciamo ad arrivare diretti a Verde Azzupoli Eh dipende già se non muoio prima Ok Eh io coglione come son repellente Ovviamente Devo fare la cattura Eh no ragazzi La cazzo L'abbiamo domata Il gran cazzo Il gran cazzo C'era domato lei Altro che una donna C'è proprio sodomizzata Non è che c'era domata Gli ha proprio messo nel culo Mi ha messo in quel posto Praticamente C'è Luke io non ho Pokemon Quindi inizio E tu con la cattura Arrivo subito No io ho tipo 152 Di po' Lo chiamavano il povero raga Lo chiamavano il povero Ok dai Una buona Una cattura buona per favore Anche perché ne abbiamo bisogno No 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 Non dirmi che È Pikachu Basta Io qui c'ho la serie Adesso mi sento Anche le palle C'è una pettatura C'è una pettatura però Quindi no No lo evolvi nel tuo Lo evolvi nel tuo Io non mi dico No lo evolvo adesso No io ti rifiuto Lo evolvo adesso No io posso evolverlo adesso Evolvilo adesso Fammi sottriere Dai no Giò Guarda Ti posso dire una cosa Ti aiuterò a editare questo video Ma vai a fanculo Lo prometto Ho trovato Pikachu Allora ragazzi Sapete che faccio adesso Lo chiamo Lo chiamo Cancro Io ho preso Ariama Nel frattempo No vedevo chiamato Top 5 Lo chiamano Ma non lo chiamano Io ho trovato Ariama che pesa 253 kg Ok Ariamo Non so come chiamare Ti faccio il teguito Lo chiamo killer Dai Io ho cominciato Lo chiamo Pikachu C'era un Pikachu Ah no cazzo Se fosse stato Mannaggia lui Se fosse stato femmina Lo chiamavo vera E come potrei chiamarlo Se la femmina scusa Vera Vabbè anche vera Sì giù Non ce l'ho pensato In effetti Giusto giù Ma invece lo chiamerò killer Perché c'è il pisellino Ok perfetto Vado a vedere il suo tipo Io nel frattempo Tanto Non ho Aspetta Aspetta Lo chiamo Lo chiamo McQueen Perché Perché c'è la cosa Fama di Saet Ah vabbè Pensavo Pensavo una motivazione Più futile Ah già è vero Che mi è andato in squadra Lo strozzo Che ho perso metà Eh giù Giù Preparate che lo faccio Ma subito Li salvo a freddo Oddio il mio volante terra Può raccogliere gli strumenti Statistiche oneste Musette di merda Ma possiamo lavorarci Musette di merda Allora Fammi segnare Pietatuono Ragazzi proprio A freddo Non me ne frega niente Può imparare anche 50 mosse di fila Allora vediamo un po' Adesso devi darvi un po' Come definitivo Però Tipo non è quasi Non ci sto No no Giù basta Basta Chi è Ho conquito la serie Chi è Un'altra camera La serie Eh no Non mettono neanche Ti che ci salva Perché tanto Non serve a niente Non serve a niente No Si lo mettono Non mettono Neanche Nel rating Comunque E quindi Deposito killer Non va in No 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 Cioè Metti 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 Come riserva Si Mi cresce Mi crepa Il cover Tipo McQueen Ma vaffan Quindi nulla Abbiamo ancora Quattro pokemon Si Andiamo adesso Vedo a zuppoli Sono Vente Facciamo Facciamo Notte Ma ci arriviamo A verde a zuppoli Siamo già 15 Eh vabbè Facciamo un attimo Una maratona Maratona televisiva Vabbè Che schifo di vita Dai io affronto Qualche allenatore No raga Veramente No Giò è morto Anche Snisor Basta No Come è morto Snisor Basta No Non ce la faccio più Seriamente Ma con chi era legato Eh Con Con l'altro Homaster Vabbè Potevo andare Ok Tardiamo indietro Depositiamo anche Gaglia Ok ragazzi Faremo una seduta Di allenamento Intensivo Molto Intensa Raga Io penso Che ci voteremo Fino al 50 Cioè No vabbè Fino al 50 No Però No raga Indecente Ho perso Metà team Perché un po' va bene Ma poi basta Cioè Tra l'altro raga Fateci sapere nei commenti Chi ha perso più Pokémon Effettivamente tra me e Luke Penso Eh Senti Luke Penso che Abbiamo perso Abbiamo perso il mondo Poké Non più che Luke Senti il mio Amaster Aveva surf È nel pc Concludiamo Sto episodio Ti prego Io sono andato A vado a Zubli Quindi concludi Ok Io sono ancora a Portal Gamble Raga va niente Ti sauto dall'altra sponda del mare Ciao 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 Vabbè comunque ragazzi Io spero Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto Vi prego Lasciateci un like di supporto Ragazzi Lasciate un like perché ci aspetta un duro allenamento E io non so più cosa fare Vi chiedo Un like di supporto Chiamate il numero Arriverò verde a Zubli fuori parte Ci alleneremo i Pokémon Troveremo delle coppie Poi vedremo se completare il team oppure no Nulla Lasciate un mi piace Commentate Iscrivetevi al canale Anzi a entrambi i canali Se non siete ovviamente ancora iscritti Mi raccomando passate al canale di Luke Per vedere la parte numero 17 Che uscirà appunto sul suo canale Esatto Se uscirà Se uscirà Se non schiattiamo prima Nell'allenamento Che altro Rispondete alla domanda del giorno Passate dai social In descrizione E fate suonare la nostra campanella Per far diventare questa serie Un funerale Detto ciò Noi ci becchiamo in un prossimo video Bye bye raga